Si terrà nel prossimo weekend il primo appuntamento con Terre del Bussento Experience, i territori del cuore. La kermess dedicata all'arte culinaria e non solo, organizzata da Cicas Turismo e patrocinata dall'amministrazione comunale di Torraca su idea del presidente Matteo Martino, già ideatore del progetto territoriale Terre del Bussento. L'inaugurazione è fissata per le 17 di venerdì 1 giugno con l'esibizione della Pisacane Wind Orchestra del liceo musicale di Pisacane di Sapri, diretta dal maestro Antonio Marotta e a seguire la cerimonia di vestizione templare. I protagonisti principali della tre giorni saranno i migliori chef delle Terre del Bussento e gli chef di Alice TV. Tutti i cooking show saranno infatti presentati da Maria Rosaria Sica, che proprio sulla TV dedicata alla cucina conduce la fortunata trasmissione I Sapori del Sole, giunta quest'anno alla sua quarta edizione. Non mancheranno i momenti dedicati al teatro con il maestro Umberto Giervolino e con la musica. In programma c'è anche il concerto di Pina Speranza e Celento Tarant venerdì 1, poi il coro Joyful Sabato 2 e il Gospel Choi del coro Una Voce tra gli Angeli Domenica 3.